Realizzato in solo un anno e mezzo di lavori, sebbene la sua progettazione risalga addirittura a 14 anni prima, vede finalmente la luce il sottopasso di Viale dell'Ilium, opera che rende meno distanti centro e periferia di Terlizzi e un tempo separati dalla ferrovia e da un passaggio a livello. Questa mattina l'inaugurazione ha la presenza del sindaco Michelangelo De Chirico e del presidente della regione Michele Emiliano. La popolazione ha vissuto con grandi disagi le code interminabili ai passaggi a livelli, al passaggio a livello che è stato soppresso, quello di Viale dell'Ilium, oggi finalmente inauguriamo questo sottopasso che è stato realizzato in meno di un anno e mezzo, quindi onore al soggetto attuatore, alla ferroviaria, alla ditta che l'ha realizzato, la ditta matarrese, ma soprattutto grazie alla regione Puglia che ha avviato tutto l'iter negli anni 2007-2008 con il presidente Michi Vendola e che ha rafforzato e rifinanziato l'opera con il presidente Emiliano. Un'opera costata circa 7 milioni di euro e finanziata quasi interamente dalla regione. L'iter per la sua realizzazione si è rivelato però più lungo e complesso del previsto a causa del rischio concreto di perdere i fondi messi a disposizione per i lavori a causa di ritardi ed intoppi burocratici. Grazie alla caparbietà dei nostri amministratori, spiega Emiliano, siamo riusciti a superare ogni ostacolo e ad inaugurare un'opera strategica per la città di Terlizzi. Se non avessimo eliminato questo passaggio a livello, tra breve rischiavano di passare da qua 200 treni al giorno e di bloccare la città intera. Quindi abbiamo fatto un buon lavoro con l'aiuto dei sindaci, con l'aiuto delle amministrazioni. Questa è un'opera ecologica, un'opera che aiuta la mobilità su ferro, che diminuisce il rischio del trasporto stradale su gomma e che ovviamente solleva l'ambiente dalle emissioni nocive delle automobili. Opera di vitale e strategica importanza che avrà bisogno di un ulteriore sforzo per renderla perfettamente funzionale. La Giunta Comunale ha approvato un progetto di fattibilità per cantierizzare nuovi lavori che consentiranno di migliorare la vivibilità della zona artigianale. Stiamo per portare all'attenzione della Regione Puglia il progetto di fattibilità del prolungamento del sottopasso che oggi inauguriamo, perché questo non è un punto di arrivo, un punto di partenza. Dobbiamo evitare alcune criticità che ci saranno, ovviamente appena entrerà in esercizio già da oggi nella strada Via Favale della zona artigianale, e questo progetto di fattibilità della Bretella che congiungerà Via Favale con Via Mariotto sarà importante per completare l'opera e rendere fruibile il sottopasso comodamente e agevolmente per l'utilizzo per cui è stato progettato.